Buonasera e bentornati in onda, sono le 20 e 40 minuti e entra nel vivo la campagna elettorale, per così dire, insomma comunque è l'ultima settimana di campagna elettorale, quindi si scaldano gli animi, di questo parleremo delle ultime polemiche del giorno, abbiamo Luca Sappino, buonasera Luca da Palermo, ha parlato e ha seguito per tutto il giorno Giuseppe Conte, abbiamo Ludovica Ciriello a Bari che ha seguito per tutta la giornata Giorgia Meloni e poi c'è stato uno scontro, avrete sentito dal Tg di Enrico Mentana con Fra Conte e Matteo Renzi che sarà nostro ospite più tardi nel corso della serata, ma per cominciare benvenuta e bentornata ad Annesia Gustocorea, vice direttrice della stampa, in collegamento con noi ci sono Peter Gomez del FattoQuotidiano.it e Augusto Mezzolini, direttore del giornale, in seguito come vi dicevo entrerà Matteo Renzi e Maurizio Molinari, arriverà Guido Prosetto tra non molto a parlarci delle strategie di Fratelli d'Italia e chiuderemo la serata con Antonio Scurati e Massimo Popolizio con delle letture da M, gli ultimi giorni dell'Europa, la terza parte della trilogia su Mussolini di Scurati, ma insomma non parleremo solo di Mussolini evidentemente, un momento e torniamo con voi. Buonasera e buon sabato 20 e 46, buonasera a Concita e Gregorio, sarà una puntata lunga con noi fino alle 22.30, grandi ospite, l'ultima parte ve lo diciamo subito, Antonio Scurati e Massimo Popolizio con il libro M, gli ultimi giorni dell'Europa, ma prima poi sarà con noi uno dei protagonisti della giornata che è Matteo Renzi e infatti oggi è da segnalare un duro, durissimo scontro a distanza tra Conte e Renzi, Conte ha detto Renzi venga, venga qui in Sicilia senza scorta a parlare di reddito di cittadinanza, subito è arrivata la replica di Matteo Renzi che ha detto si tratta di un linguaggio mafioso sei un mezzo uomo e ovviamente chiederemo conto anche a Renzi di questa durissima dichiarazione. Matteo Salvini si è inserito nel dibattito odierno dopo la conferenza stampa di ieri di Mario Draghi, Draghi trovi soldi per le bollette oltre a parlare di Pupazzi, i Pupazzi prezzolati per citare la conferenza stampa di ieri di Mario Draghi che ha fatto molto discutere con noi. Dice che si è sentito chiamato in causa? Non lo so, per il pupazzo, per il prezzolato, non lo sappiamo, io lo chiederemo, forse può essere, buonasera a Annalisa Guzzoglia, viceversa della stampa, partendo i direttori stasera con Augusto Minzolini, direttore del giornale che oggi ha fatto un titolo molto duro anche nei confronti di Draghi, l'addio di Draghi tra mance e veleni e il direttore del fattoquotidiano.it è Peter Gomez, buonasera Peter, da Bari Ludovica Ciriello che ha seguito il comizio di Giorgia Meloni e l'ha fatta un po' arrabbiare sul tema di Orban, poi ci racconterai tutto e a Palermo l'uomo invece delle dichiarazioni del giorno è il nostro Sappino che ha intervistato Conte e infatti le dichiarazioni di Conte le ha dette esattamente poco fa al nostro Sappino. Io direi per ordine, partiamo dalla conferenza stampa di ieri di Mario Draghi che in un momento come questo di campagna elettorale fa e continua a far molto discutere e partiamo dall'Ungheria, da questo passaggio. Un giornalista ha chiesto a Draghi conto del voto che c'è stato al Parlamento europeo sull'Ungheria col voto contrario di Lega e Fratelli d'Italia, sentite la risposta di Mario Draghi. I nostri alleati sono la Germania, la Francia e gli altri paesi europei che difendono lo Stato di diritto. Cosa farà il prossimo governo? Non lo so. Però nella ricerca mi sono chiesto com'è che uno si sceglie i partner? Si sceglie sulla base di una certa comunanza ideologica sicuramente. Ma un'altra considerazione che bisogna avere in mente è l'interesse degli italiani. E cioè, bisognerebbe chiedersi quali sono i partner che mi aiutano a proteggere gli interessi degli italiani meglio? Chi conta di più tra questi partner? Datevi le risposte voi. Allora, Annalisa Cuzzocrea. Intanto questa conferenza stampa è l'ultima di questa legislatura e quindi forse anche Draghi si è sentito più libero di esprimersi, adesso non vorrei usare la parola testamento, però insomma l'ultima conferenza stampa è sempre un momento in cui si dice un'ultima cosa che resta da dire. Ricordiamo ai nostri tre spettatori a che proposito si è citato Orban, c'è stato un voto del Parlamento europeo e quindi in che senso è giusto stare attenti a quale alleati scegliersi? Secondo me si è sentito più libero, come dici tu, forse anche ha sentito una responsabilità perché il voto che c'è stato in Parlamento europeo è un voto molto importante. Che cosa ha fatto? C'è stato un rapporto del Parlamento europeo molto circostanziato su tutte le volte in cui l'Ungheria di Orban ha leso lo Stato di diritto, su tutti i restringimenti di diritti che ci sono, delle minoranze, della libertà di insegnamento nelle università, dei cambiamenti per quanto riguarda la magistratura, l'aborto, credo che ne abbiate parlato anche voi, comunque la crudeltà di far sentire il battito del feto a una donna che decide di interrompere la gravidanza. Tutto questo è stato oggetto di un voto e il Parlamento europeo doveva dire se può andare avanti così l'Ungheria continuando ad avere i fondi, a far parte di questa comunità oppure se non va bene. E a votare perché vada avanti così sono stati fratelli d'Italia, gli europarlamentari di fratelli d'Italia e della Lega in Italia. Questo che cosa significa per Mario Draghi? Significa collocare l'Italia dalla parte di chi dice che la vera democrazia è quella illiberale, cioè Orban è un teorico come lo fu Putin in quella famosa intervista il Financial Times della democrazia illiberale, cioè di una democrazia che sì ha il voto dei cittadini ma poi opera un restringimento dei diritti e delle libertà. Quindi l'uomo forte al comando se la vogliamo dire in modo spicciolo. E quindi Draghi ha detto non va bene. Ed è molto importante questa cosa che ha detto. Perché dico che sente una responsabilità? Perché a Rimini Draghi aveva fatto una sorta di apertura di credito, almeno così era stata letta. Aveva detto con qualsiasi governo l'Italia ce la farà. E questo era sembrato una specie di viatico, una specie di patto con Giorgia Meloni. Come se ci fosse un filo tra Giorgia Meloni e Mario Draghi. E questa cosa lo chiederemo a Crosetto immagino. Era stata un po' coltivata, si chiamavano, c'erano delle chiamate che venivano fatte filtrare. Questo filo io penso che Draghi abbia voluto spezzarlo proprio per quel voto. Perché quel voto è stato fatto e rivendicato, sia da Meloni che da Salvini, che dicono ai voti degli ungheresi va bene tutto. Però se fai parte di una comunità che è l'Unione Europea ha dei valori, non va bene tutto. Menzolini, poi andiamo subito a Bari dalla nostra Ciriello perché c'è la replica di Giorgia Meloni. Posso fare una piccola cosa a quello che diceva? Prima che tu faccia la domanda ad Augusto Menzolini. Molte persone dicono chi se ne importa della politica estera? Lo sente? È un rumore di fondo di queste ultime settimane. Vedrai che ne parleremo. Mi pare che Corsetto lo abbia proprio anche dichiarato, non vi è attaccato alle questioni di politica estera, quello che conta è l'Italia. Però quello che dice Draghi in questa conferenza stampa è come ti scegli i miei amici. È molto interessante perché dice qualcosa di te. Non è soltanto un fatto di politica estera, è proprio quali sono le tue relazioni. La risposta di Giorgia Meloni è stato regolarmente eletto, quindi che volete da noi, è un leader eletto. Mi ha fatto ripensare, Davide, a quello di cui parleremo poi alla fine di questa puntata, cioè che tanti, tanti sono stati leader eletti e poi le cose nella storia sono andate in un modo imprevedibile e anche a volte rovinoso. Quindi non è una gran risposta. Scusa, volevo dire questo perché ne parleremo più a anni. Poi andiamo subito a Bari dalla Ciriello, così sentiamo dalla viva voce della Meloni che cosa ha detto oggi. Siccome Minzolini ha scritto l'addio di Draghi tra mance e veleni, allora le mance lasciamo stare perché evidentemente fa riferimento ai bonus, ma i veleni mi interessa. E poi chiederti soprattutto, non è un argomento solo di politica estera, è un argomento che riguarda le nostre alleanze future. Quindi come dire, ci investe direttamente la questione dell'Ungheria di Orban, o mi sbaglio Minzolini? Guarda, io non ho nessuna intenzione di difendere Orban, a parte che il fatto che sia stato votato non è un elemento secondario. Io un po' sono rimasto perplesso quando nello stesso discorso da una parte Draghi dice che non c'è nessun tipo di prova, o comunque addirittura nel rapporto, nel famoso rapporto degli 007 americani non era presente l'Italia, e dall'altra parte invece continua con una serie di congetture che puntano a dimostrare che c'è o Salvini o qualcun altro che hanno avuto qualcosa a che fare con i russi. C'era il famoso viaggio, no Augusto? Il famoso viaggio di Salvini mai realizzato. Quelle sono agenzie viaggi. Seguimi, seguimi. Io parto da un presupposto, l'ho detto il primo giorno. Se ci sono i nomi bisogna tirarli fuori, per un motivo molto semplice, perché se noi diciamo una cosa di questo tipo, sono delle accuse gravi. Siamo addirittura in guerra di fatto con i russi, quindi è una sorta di alto tradimento. Ma se quei nomi non ci sono, se addirittura in quel rapporto non è neanche citata l'Italia, a quanto dice Draghi, continuare a parlarne a cinque giorni dal voto è un'ingerenza, è un modo per intervenire, per strumentalizzare, per speculare. E mi meraviglia sia il ministro degli esteri, Di Maio, sia lui. Perché se questo è vero, altrimenti, e se loro sanno qualcosa, dovrebbero dirlo. Perché se non lo dicono, essi assumono una grande responsabilità. Però, Minzolini, scusa, poi sentiamo Gomez. Guarda, scusa, seguimi. Poi sentiamo Gomez. Draghi ha fatto un riferimento, scusa a mio gusto, molto preciso. Cioè, ha detto, mentre c'eravamo noi che avevamo una linea, c'era qualcuno che trattava con Putin. Cioè, il riferimento era precisissimo ed era al viaggio che salvi. Ma lui, scusami, è stato il presidente del consiglio di un governo che è nato ed è stato sostenuto dalla Lega, che ha dato la possibilità a Draghi, giustamente, ripeto, giustamente, perché altrimenti darei un giudizio negativo della Lega, di dire sia le sanzioni alla Russia, sia di fornire le armi alla Russia. Allora, io da questo punto di vista non puoi, dopo che tu hai incassato quel voto, non riconoscerlo. Che poi qualcuno dica menate parole, ma a me quello che contano, specialmente per un presidente del consiglio, dovrebbero essere i fatti. Anche perché il momento in cui tu metti in discussione quella solidarietà che c'è stata nel Paese e che ha dato l'idea è un'immagine forte, tanto che ha permesso a Draghi di avere un ruolo importante a livello internazionale. Beh, di fatto, rendi diciamo meno... non dici quello che è giusto dire di quello che ha fatto l'Italia in questo momento. Allora, Augusto, andiamo da Ludovica Ciriello, che ha parlato con Giorgia Meloni di questi temi, prima di coinvolgere su questo anche Peter Gomez. Ludovica, cos'è successo oggi? Allora, Concilla, buonasera, buonasera anche David. Giorgia Meloni è arrivata qui, devo dirvi visibilmente nervosa, più nervosa di come l'abbiamo vista in altri comizi. In parte perché questa è sicuramente una regione più ostile per lei, è la regione di Michele Emiliano. A lui ha dedicato gli attacchi iniziali dal palco, ha detto che ha ricevuto una telefonata di Michele Emiliano che non ha ritirato però le parole che aveva detto in precedenza, ovvero dovranno sputare sangue prima di conquistare la regione Puglia, saremo a Stalingrado e Italia e qui insomma è stata molto dura nei suoi confronti. E poi abbiamo provato anche noi a chiederle qualche chiarimento per quanto riguarda la sua posizione nei confronti di Urban e come diceva prima David l'abbiamo un po' fatta arrabbiare, ve la faccio sentire. Mario Draghi ieri ha detto noi siamo alleati di Francia e Germania e ha rivolto una domanda che sembrava proprio per lei, sulla base di cosa si scelgono gli alleati? Per esempio Orbán. Io ho sempre detto quello che penso della collocazione dell'Italia e mi pare di averlo ampiamente dimostrato. Credo in un'Italia che stia a testa alta e saldamente all'interno dell'Europa, dell'Occidente e dell'Alleanza Atlantica. Mi pare di averlo ampiamente dimostrato in tutte le scelte che si fanno e questa è una fase molto particolare. Credo che ad esempio il fatto che mentre noi siamo all'interno di un conflitto internazionale con la Russia e di una guerra che io credo essere una guerra più ampia di quella che riguarda solamente l'Ucraina, che ha come obiettivo la revisione degli assetti mondiali, bisogna fare attenzione a dividere il nostro fronte. Questo penso anche dell'atteggiamento nei confronti che si è avuto sull'Ungheria piuttosto che sulla Polonia. Chiaro, però lo Stato di diritto non è assolutamente... Senta, la prego, però va bene tutto, però io la campagna internazionale sto facendo in Italia, mi fate parlare tutto il giorno in Lungheria, ma secondo lei mi devo candidare alle elezioni in Lungheria? La prego, qui la gente non c'è le bollette, non c'è il posto del lavoro, non sa che fare a scuola e sono tre giorni che parlo in Lungheria. Quando mi candiderò in Lungheria le risponderò. Allora, vi prego, perché a Letta non è che gli è andata a chiedere l'Ungheria. Ma quella di Putin è una democrazia? Allora, Peter Gomez, è chiaro che a Letta chiediamo altro e glielo chiederemo domani in diretta qui, ma non gli chiediamo dell'Ungheria perché il voto di Forza Italia e del Partito Democratico è stato contro l'Ungheria e quindi non avrebbe senso chiederne conto. Peter Gomez, perché è così importante questa vicenda del voto al Parlamento europeo di questi due partiti? Allora, chiariamo una cosa. Giorgio Meloni ha ragione quando dice che credo che all'elettore italiano medio la questione importi veramente poco e importa veramente poco per degli esseri. Però è una questione importante. Perché è una questione importante? Perché Giorgio Meloni si propone legittimamente di riformare la nostra Costituzione. Per una Repubblica Presidenziale non c'è nulla di male. Se gli italiani e i parlamentari riterranno di trasformare la nostra Costituzione in Repubblica Presidenziale va tutto bene. Però una Repubblica Presidenziale deve stare in piedi per essere tale ed essere una Repubblica, una democrazia liberale con tutta una serie di contrapesi. Contrapesi che in una Repubblica non presidenziale come quella ungherese sono man mano venuti meno. Nel senso che abbiamo visto che Orban ha chiuso testate giornalistiche, è intervenuto come si tentava di fare anche in Polonia, nostro alleato sull'indipendenza e la magistratura, eccetera, eccetera. Quindi questa è una visione di fondo che effettivamente interessa a pochi italiani, ma è importante sul piano sospaziale. Allora, intanto vedo collegato, grazie Peter, vedo collegato Guido Crosetto che ancora non so come chiamare a parte Guido Crosetto, ma presto forse dopo le elezioni avremo un sottopancia più chiaro, non lo so, non so, è una battuta. Sì, Guido Crosetto. Sempre Guido Crosetto. Crosetto Guido, Crosetto Guido. Sempre Guido Crosetto. Insomma, Guido Crosetto è stato indicato in queste settimane come una persona che segue molto da vicino questa campagna elettorale di Giorgia Meloni, diciamo così, questo lo possiamo dire con fermezza. Perché è importante questo voto del Parlamento europeo, Crosetto, se secondo lei è importante? Poi smettiamo di parlare di Orban, ma chiudiamo questo tema. Grazie. Il Parlamento europeo ha ritenuto questo voto importante perché sono anni che va avanti un braccio di ferro tra Orban e il Parlamento europeo. È iniziato appena lui ha lasciato il Partito Popolare europeo ed è continuato da quando lui è iscritto al gruppo misto europeo con alcune contestazioni che sono fatte non solo a lui ma anche a altre nazioni, ma a lui particolarmente. Io su una battuta che ha fatto Giorgia Meloni prima non mi sento di dare torto, ma penso che neanche voi la darete, sul fatto che Adelante Pedro si quede, diceva Manzoni, è con Juicio. Cioè è giusto che l'Europa bacchetti riprenda Orban su alcune scelte che lui ha fatto nel suo paese. È sbagliato spingere Orban nelle braccia della Russia perché tutto possiamo permetterci di pensare nei prossimi mesi, nei prossimi anni, tranne spingere nazioni nelle braccia della Russia. La stessa Polonia che ormai, come sapete, non ha più rapporti con Orban e con l'Ungheria dopo la vicenda ucraina è diventato probabilmente la nazione che più contrasta Orban, la Polonia stessa, ha detto fate attenzione a non regalare un nuovo alleato a Putin. Ma scusi Crosetto, secondo lei, diciamo nella conferenza stampa di Draghi, Draghi ha voluto mandare un messaggio molto preciso anche a Giorgia Meloni per questa amicizia con Orban. Cioè quando parla della nostra collocazione italiana e dei nostri rapporti con Francia e Germania, dice una cosa molto netta, ecco perché è importante sapere quale sarà la vostra collocazione? Siamo più amici di Francia e Germania o strizziamo l'occhio a Orban? Questo è il punto politico. Guardi, la loro collocazione, sempre per tornare a Guido Crosetto, sempre per parlare da Guido Crosetto, sarà chiaramente quella che ha indicato Giorgia Meloni, atlantica, europea, quindi col nucleo fondante dell'Europa che vede Francia, Germania, Italia, adesso non c'è più non c'è più UK ma Spagna e che dà la stessa dignità a tutti i paesi europei e che tende a mantenere un'europea. Lei cosa avrebbe votato, scusi se insisto, una mia curiosità, lei fosse stato all'Europarlamento, che cosa avrebbe votato? Guido Crosetto, con questo sottopancia, cosa avrebbe votato all'Europarlamento? Se lei, visto che lei mi conosce e sa che non avendo io letto il documento non posso risponderle, perché io normalmente ho sempre avuto l'abitura di leggere i documenti. Ma l'abbiamo pubblicato su tutti i giornali, la stampa, su tutti i giornali. È un escamotaggio interessante il suo, però io sono sicuro che lei la risposta ce l'ha, che cosa avrebbe votato all'Europarlamento? No, guardi, in questo caso no, perché in questi giorni sto facendo altro, per cui vi confesso che non ho letto perché ho problemi molto più grandi, perché noi che lavoriamo nel mondo reale ci dobbiamo contrarre con la possibilità o meno di tenere aperte delle aziende. no, no, ma il mondo reale non ha nulla di diverso per te giornalista, il mondo reale è chiaramente quello del giornalismo, anche per me è quello di far consertare le aziende che magari stanno in piedi da 70 anni. Sì, ma io vivo in un mondo reale. No, ma lei vive nel mondo reale che esercitando una professione, nel mio mondo reale che è diverso dal suo. Va bene, è chiaro. No? Il problema principale di questi giorni è come tenere aperte delle aziende che sono passate da 150 mila euro di bollette al mese a un milione e mezzo. Scusa, però ho senso di niente, perché ti do subito la parola. Che sono in cassa integrazione e a cui vorrei che domani ci fosse di nuovo un lavoro da dare. Per cui capisco che per voi sia un problema minimale rispetto all'Ungheria, per noi che viviamo questi problemi, diciamo banali, sono problemi enormi. Scusi, Crosetto, do subito la parola a Annalisa, ma ha detto che sono molto occupato in questi giorni a risolvere queste questioni. Esattamente che cosa sta facendo? A occuparmi di queste questioni. Sì, che cosa sta facendo esattamente? Beh, guardi, quando lei ha dei problemi così personali, cosa deve cercare di riconvertire? Deve cercare di vedere se ad esempio può cercare di fare un impianto e utilizzare metano, visto che prima ha utilizzato sempre il gas. Deve cercare di chiedere magari all'Enel che faccia allacciare quell'impianto fotoltaico che ha fatto e che da tre mesi non ha allacciamento, potrebbe essere usato o non può essere usato. Deve vedere come sentire, come chiedere ai clienti di aspettare con pazienza un mese o in più le forniture perché adesso non riesce a fare. Ma lo fa in qualità di imprenditore? Chi fa questo tipo di lavoro? Per capire. Questi sono... In qualità di imprenditore? Lo fa in qualità di imprenditore. Cioè, in qualità di imprenditore. Ma proprio velocissima. Il punto è che è molto legato di quello di cui abbiamo parlato, a questi problemi. Cioè, lei è favorevole al tetto al prezzo del gas come è favorevole Giorgia Meloni, che è un modo per cercare di ovviare e di alleviare questi problemi. Sa chi è contrario? È contrario a Orban. E quel voto serve anche non ad allontanare Orban e a regalarlo a Putin, perché Orban sta già facendo, diciamo, è già abbastanza vicino a Putin, ma a fare pressione. Qui bisogna considerare qual è il punto di forza. L'Europa dice, noi siamo forti, Orban vuole stare con noi, gli puniamo delle condizioni e così lo stacchiamo da Putin. Se lo facciamo andare verso un'autocrazia, lo avviciniamo... Non è una politica estera riguardo a noi. Ma mi guarda proprio il gas. Orban remma contro le sanzioni sul gas. Ma lo sa lei? Ma anche il microfono, secondo me. No, poi torniamo da te, Mizzugno. Io lo so, guardi che è il motivo per cui... Lo sa. Scusate, è il motivo per cui Orban, che ha chiesto di entrare nel Partito Conservatore, non è entrato per volontà di Italia e Polonia nel Partito Conservatore. Perché si rendono perfettamente conto che uno non può avere una posizione molto chiara sulla Russia e l'Ucraina e ammettere Orban. Per cui ha agito così il Partito Conservatore. Quindi mi è chiarissima questa cosa. Io non le sto dicendo che non mi è chiara la cosa. Le sto dicendo perché oggi, voi mi accusate, sembro un cretino perché non sono riuscito a leggere l'articolo, le spiego perché non sono riuscito a leggere l'articolo. Mi capita molti giorni di non riuscire a leggere nessun giornale. Vi do questa informazione, me ne prendo colpa, mi scuso se lo faccio. No, no, ma lasci stare, però sa. Mi succede molti giorni di non leggerlo. No, però sa meglio di noi che da anni si discute del ruolo dell'Ungheria. E siccome io non faccio politica, non fa... C'è il motivo per cui le dico, non è entrato nel Partito Conservatore. Allora, andiamo un momento da Minzolini e poi da Gomez. Torniamo da lei subito, Prosetto. Minzolini cercava di intervenire. No, no, no. Io dicevo che sentivo malissimo in realtà. Però se voglio dire una cosa, voglio dirla. Cioè, sento tutto confuso. Sì, la domanda è questa. Comunque quello che volevo dire è una cosa... La conferenza stampa di Draghi. Che spiegazione ti dai di questa uscita di scena di Draghi? Momentanea, forse. Ma... Eh, momentanea non lo so. Però chiaramente c'è anche un elemento rispetto alle esperienze degli ultimi mesi. Diciamo, i sassolini nella scarpa li ha tirati fuori. Ve lo provo a tornare un po' a un discorso prima. Se vuoi... Allora, io su Orban, ti ho detto, non ho dei giudizi abbastanza netti e sono negativi. Detto questo, il problema vero di Orban, semmai, è esattamente il tipo di atteggiamento che ha avuto, diciamo, sulle sanzioni alla Russia. Io ho parlato, forse, penso di averlo scritto per primo, di Quinta Colonna. Però quello pone un problema ancora più grosso, che è il meccanismo istituzionale che di fatto regge l'Unione Europea, con il diritto di veto. Perché oltre a Orban, poi c'è il problema anche che abbiamo vissuto in queste settimane che riguarda l'Olanda. È l'impossibilità di mettere quel tetto al prezzo del gas, che era essenziale in un momento del genere e che anche questo, diciamo, puoi ricollegare al problema, diciamo, della guerra, tra virgolette, economica con la Russia. E dall'altra parte, possiamo andare avanti, notizia di oggi, il fatto che la Francia ci comunichi che non ci venderà più elettricità, perché ha creato invece un rapporto preferenziale con la Germania, è un'altra cosa che ci dovrebbe fare riflettere. Per cui l'Europa è una cosa essenziale, fammi finire, è un'Europa essenziale. Cioè non c'è nessuna alternativa all'Europa, tanto per essere chiari. Però c'è un dato di fatto che tu devi creare un'Europa che non sia fatta di rapporti bilaterali, ma che di fronte a un'emergenza e a una guerra, stia tutta insieme e abbia una solidarietà comune, perché altrimenti Orban è l'esempio indifendibile e più lontano, ma contemporaneamente anche certi comportamenti di altri paesi ti lasciano perplesso. Abbiamo un super spot, ci ha raggiunto anche il direttore Molinari, che vedo già collegato e forse da Milano, che già ci sente e tra poco lo vedremo. In questo caso io tornerei subito sulla conferenza stampa di Draghi, fra un momento, perché torniamo al tema, quando Draghi dice sarebbe disponibile a guidare un nuovo governo e Draghi risponde secco no, questo chiude degli scenari e ne apre degli altri. Voglio sentire su questo l'opinione di Crosetto, un momento e torniamo con voi. Bene, allora il famoso nodi Draghi, Guido Crosetto e poi Peter Gomez. Crosetto ci sente? Forse al telefono. Stiamo intercettando, stiamo commettendo un reato, facendo una intercettazione in diretta. Crosetto! Mia moglie, stavo parlando con mia moglie, che come sa le moglie vengono prima di chiunque altro. Beh, la felicità è perfetta, sono in televisione. Mia moglie che mi chiedeva la password del computer perché i miei figli vogliono vedere un film e gli saranno la password del computer. Non volevamo! Si voglia, l'ho in diretta, così faccio come Gasparri. Non volevamo! Ma gliel'ha data la password, Crosetto, è molto importante, gliel'ha data la password. No, non sono riuscito, adesso appena finisco di rispondere scrivo. Mi raccomando, non Peppa Pig, eh comunque, diceva giustamente. Prego, Crosetto. No, l'ho cambiata dopo aver sentito mollicone quella. Evviva! Crosetto, il no di Draghi. Il no di Draghi, che cosa cambia in questa ultima settimana di campagna elettorale? Ci proviamo? A me il no di Draghi non colpisce perché lo davo per scontato già da tempo, perché era chiaro che Draghi avesse idee diverse per sé e per il suo futuro, che considerasse chiuso la sua parte di servizio allo Stato come Presidente del Consiglio. E' stato utilizzato e tirato per i capelli da molte persone, perché comunque ha un valore elettorale significativo, ma tutti secondo me sapevano che della sua indisponibilità... E questo secondo lei indebolisce il terzo polo, Crosetto? Cioè, questo secondo lei indebolisce la posizione di Renzi? No, loro continueranno a dire che cercheranno di convincerlo alla fine che chi ha amato sarà costretto a tornare. No, non possono cambiare la litania nell'ultima settimana. Ma lei non pensa che invece chi ha amato da Mattarella potrebbe continuare, diversamente da quello che ha detto in conferenza stampa? No, penso che questa volta sia un no definitivo. la vicenda Presidenza della Repubblica, secondo me, ha pesato molto sull'approccio di Draghi. Va bene, la lasciamo alla password di sua moglie, andiamo da Peter Gomez. Però prima di scollegarci da lei e di lasciarla a questo... Le volevo chiedere, ma lei quando Draghi ha detto pupazzi prezzolati, ha subito pensato a qualcuno? No, sarei stato, se fossi stato in conferenza stampa, gli avrei chiesto dei nomi. E in un'intervista che ho rilasciato oggi per un quotidiano che c'era lunedì, lo invito a farci i nomi perché sono curiosissimo. Però Salvini si è sentito chiamato in causa, ha risposto come se parlasse con lui. Tutto posso fare nella vita tranne che rispondere per Salvini. Prima del break, perché poi avremo Matteo Renzi con Maurizio Molinari e quindi chiudiamo questo primo giro con un flash di Peter Gomez, visto che la questione di fondo oggi è stato questo dialogo fortissimo a distanza tra Conte e Renzi sul reddito di cittadinanza. Allora introduciamo questo grande tema con una campagna elettorale di Conte concentrata e indubbiamente molto al sud, Peter. Guarda, oggi era successo che Matteo Renzi aveva detto che, prima che parlasse Conte, che il reddito di cittadinanza era voto di scambio. E la cosa a me aveva fatto un pochino sorridere perché quella era l'accusa, secondo me, sbagliata che veniva fatta a Renzi quando lui diede i famosi 80 euro. Io trovavo perfettamente una cosa, magari potevano essere fatti meglio come reddito di cittadinanza, ma trovavo una cosa giusta poter dare a persone che guadagnavano 1000, 1200, 1300 euro al mese 80 euro perché era l'aumento più grosso che avevano mai ricevuto. Poi certo, se uno dà delle cose può darsi che riceva dei voti in cambio. Il problema di Renzi è che Renzi è un abile politico e oggi lui sapeva di avere due problemi e ha dato uno spin, come si dice. Anzi, ne aveva tre, perché il primo problema l'abbiamo detto Draghi che dice chiaramente quello che ha detto. Il secondo problema, secondo me, piccolo, perché obiettivamente mi sembra una cosa che sta poco in piedi, sono le accuse a Richetti tramite quel video di quella signora. Il terzo problema, un pochino più grosso per Renzi, era il fatto che oggi era emersa la notizia che Renzi aveva preso un voo per fare campagna elettorale un aereo, un jet privato per volare da Lugano al sud Italia. Voi direte piccola cosa, in realtà non una piccola cosa, perché molti degli elettori di Renzi si considerano ecologisti, sono preoccupati del cambiamento climatico. Con la polemica che lui ha innescato con Conte, oltretutto dandogli, sostanzialmente o dicendo, ha usato dalle parole una minaccia mafiosa, ha detto a un certo punto Renzi, che è un po' divertente data a un signore che candida l'ex procuratore generale antimafia, l'ex procuratore di Palermo, il fratello del famoso sindaco di Pitta, Pescatone. Renzi però è riuscito a dare uno spin. Io sul mio sito e noi tutti stiamo parlando di tutto questo. Per quanto riguarda Conte, Conte è in grande risalita secondo i sondaggi. Vedremo se è vero, ma io credo che una cosa vera abbia detto Conte, non risale solo per il reddito di cittadinanza, risale perché appare agli occhi di tutti e al vittorio del resto del sistema dei partiti. Allora andiamo subito da Luca Sappino a parlare di Conte. Dopo la pausa. Andiamo subito da Luca Sappino a Palermo. Grazie a Crosetto. Cosa ha detto Crosetto? Su Conte avrei parlato volentieri, no no, su Conte e sulla sua diversità dal resto avrei parlato volentieri. Abbiamo Matteo Renzi tra poco, grazie a Crosetto. Però non ci può lasciare così. Se posso parlare di Conte rimanevo volentieri. Dica quello che deve dire di Conte. No, abbiamo il break prima. Subito dopo il break però, un momento. La diversità di uno che ha governato con Salvini e poi con Letta non la vedo. Allora, dia la password e dopo il break noi ci ricolleghiamo con lei. Va bene, 21 e 23. Crosetto è rimasto stagio nostro e intanto allora gli facciamo vedere, così diamo la possibilità di rispondere, la replica che Conte ha fatto nei confronti di Draghi. Il nostro Luca Sappino oggi lo ha intervistato. Sentite questo passaggio importante. Si è tolto sì, come dice lei, qualche sassolino dalla scarpa. Però forse dal Presidente del Consiglio più che qualche sassolino dalla scarpa nell'ultima conferenza stampa noi ci aspettiamo anche che finalmente qualche indicazione che non è mai venuta sulla strategia per uscire e porre fine a questa guerra, a questo conflitto. Sull'Ucraina ce l'aveva con voi invece quando ha detto non si può mica pensare che gli ucraini si difendano a mani nude. Ce l'aveva con lei che ha votato a favore e poi si è detto Conte. Guardi, questo l'ho sempre detto io e la ragione per cui abbiamo appoggiato appunto la popolazione ucraina anche per quanto riguarda gli aiuti militari. Il problema è sempre quello però. Se dopo otto mesi di conflitto hai solo questa prospettiva di fornire e continuare a rifornire di armi, vuol dire che non è una strategia. Non è una buona strategia, insomma, così si concludeva la frase. Allora Guido Crosetto su Conte, anche su questo tema dell'Ucraina che è molto interessante. Conte, ma quello che voi dicevate, no Conte, cioè quello che il fatto che Conte fosse diverso dagli altri. Conte ha fatto governo prima con Salvini e ha sposato la politica di Salvini per i primi anni, poi ha sposato quella di Letta e alla fine ha appoggiato il governo Draghi, da cui si è sfilato negli ultimi due mesi, per cui non ho intravisto tutta questa diversità rispetto agli altri partiti che adesso lui tratta in questo modo e con questa superiorità. C'è una battaglia politica in corso, c'è un'elezione in corso. Conte ha sposato alcuni argomenti molto chiari, che sono argomenti non di Conte, del primo Movimento 5 Stelle, che nascono prima che Conte entrasse in politica, sostanzialmente il reddito di cittadinanza. E' una mentalità assistenzialista nelle zone, diciamo, più povere del Paese. A questo si contrappone un altro modello di visione, che è quello di dire io devo dare le condizioni affinché un giovane possa guadagnarsi il suo futuro e non dipendere dallo Stato. Un Nobel dell'economia, Amartya Sen, ci ha spiegato che la povertà è la mancanza di occasioni, la mancanza di possibilità per emergere la povertà. Allora, io penso che un Paese debba porsi a fianco agli interventi di prima necessità, in prima linea alla costruzione di occasioni di lavoro, di crescita, di autonomia, di vita propria da parte di un giovane. E questo vuol dire anche mettere in concorrenza il reddito di cittadinanza con posti di lavoro pagati il giusto. Perché molto spesso dicono, quando giustificano il rifiuto da parte di giovani di molti posti di lavoro, dicono perché quei posti di lavoro sono sottopagati. Allora, lo Stato deve garantire che i posti di lavoro offerti siano offerti con contratti e orari standard e se non ci sia nessuno che approfitti della povertà per far lavorare le persone in condizioni che non sono degne di un Stato. A quel punto tu smonti le ragioni di uno strumento come il reddito. Ho soltanto un'ultima curiosità, ma telegrafico, Crosetto, perché è arrivato il nostro ospite. Lei teme, come osservatore naturalmente, sempre come Guido Crosetto, lei teme che ci possa essere uno smottamento di Forza Italia e Lega e che quindi l'alleanza di centrodestra, diciamo, possa essere un po' zoppa e arrivare eventualmente dopo il risultato elettorale non così in forze. Questa perdita di consensi di Salvini e di Berlusconi la preoccupa? No, non mi preoccupa. Questo è il modello Draghi. Grazie, Crosetto, sono molto stanco, mi scuso. No, no, va benissimo, non la preoccupa. Buona serata, grazie. Annalisa, chiudere. Annalisa, la domanda è proprio questa, così ci aiuti anche a introdurre Matteo Renzi che è qui dietro alle quinte. La questione del reddito e di cittadinanza, quanto può aiutare Conte nella sua campagna elettorale? Sì, ma non è solo quello, non credo che sia solo quello. C'è quello, c'è anche il discorso che ha fatto Guido Crosetto, Conte è l'uomo dei bonus, ha davvero una visione assistenzialista, l'ha avuta in un momento difficile come il Covid, però ha assistito davvero il reddito di cittadinanza. Io non ce lo vedo un nuovo governo che, come prima, ma lo dirà forse Matteo Renzi, come primo atto leva il reddito di cittadinanza a persone che magari solo grazie a quello riescono a vivere. Non è solo questo, secondo me Conte, nonostante le palesi contraddizioni che abbiamo appena visto sull'Ucraina, voto per l'invio alle armi, ma solo contro l'invio alle armi, ha azzeccato due cose, ha azzeccato la campagna elettorale. La prima è stata tenere fuori di Battista la troppo barricadere anti-Atlantica, e quindi comunque è governista in qualche modo, e la seconda è stato il limite del doppio mandato. Mantenerlo ha dato un'idea di rinnovamento e questo gli sta aggiovando. Grazie a Annalisa Cuzzocrea. Mentre salutiamo Annalisa Cuzzocrea, Maurizio Molinari, direttore di Repubblica, e con noi in studio Matteo Renzi. Benvenuto, benvenuto. Come sta? Bene, bene, molto bene. Mi aveva telefonato durante la diretta. C'era molto traffico, vogliamo andare subito... Mi aveva telefonato, vuol dire che era in ritardo. Va bene, non farvi vedere il telefono adesso. Non è che ho delle cose, non è che ho delle cose. Ma non si fa, ma sì, dai. Cerchiamo di essere seri. Luca Sappino, la giornata di Conte e veniamo al piccolo scontro politico, perché poi è sempre lo scandale du jour, come dicono quelli che parlano le lingue. Andiamo, Sappino. Sono delle fiammate, Concida. In particolare questa arriva al termine della seconda giornata che Conte passa in Sicilia. Ricordiamo che in Sicilia si vota anche per le regionali e Conte sta facendo una campagna sul territorio, sui temi del Movimento 5 Stelle, quindi transizione ecologica, legalità, c'è candidato scarpinato e reddito di cittadinanza. Sul reddito di cittadinanza si è innescato lo scontro con Matteo Renzi, perché io ho incontrato Conte Agrigento, gli ho letto un'agenzia di Renzi e penso si possa vedere la risposta di Giuseppe Conte. Sei stato tu, quindi? Vediamo. Ma Renzi parla di vergogna, ma se non si vergogna lui, il senatore della Repubblica che si è fatto pagare dagli Arabi e ha fatto una marchetta sul rinascimento saudita, si possono vergognare le persone che prendono il reddito di cittadinanza. Lui che prende 500 euro al giorno. Ma non scherziamo. Però il reddito sarà probabilmente cancellato dal prossimo governo. Secondo lei queste persone che ha parlato lo prendono tutti i reddito di cittadinanza. Renzi deve fare una cosa, venga finalmente senza scorta in mezzo alla gente a parlare, a esporre queste sue idee. Venga a dire che in Italia non occorre un sistema di protezione sociale, prima di parlare. Venga a dirlo e non si nasconde. Senta Renzi, lei ha poco fa, se non ricordo male, chiamato la ministra Lamorgese e lo ha, leggo adesso da un'agenzia, perché i suoi social sono subisagli di minacce di morte, così? Venga senza scorta è una frase che può dire un bullo di periferia, non un ex presidente del Consiglio. Vede, se lei domani sera invita qui Giuseppe Conte e il sottoscritto per parlare di reddito di cittadinanza, magari, del fatto che Giuseppe Conte ha cancellato l'unità di missione sul dissesto idrologico, quella che non ha speso per colpa sua quegli 8 miliardi, di cui 45 milioni, sapete perché erano dedicati? Per la cassa d'espansione del Misa, a Senigallia. Se vuole parlare di come si fa i posti di lavoro, di come si fa la transizione ambientale, io ci sono. Io non scappo dal confronto con Conte. Però lei ha parlato di voto di scambio, delle sue... Scusi, no, no, Parenzo, scusi. Lei mi ha fatto una domanda su venga senza scorta. Questo non è mai successo nella storia repubblicana. Poi si ragiona nel merito, voto di scambio, tutto quello che vuole. Nella storia repubblicana non è mai successo che Berlusconi abbia detto a Prodi vieni senza scorta in piazza e ti facciamo vedere noi. Giuseppe Conte una settimana fa ha detto togliete il reddito di cittadinanza e avrete la guerra civile. È il linguaggio di Donald Trump. È un linguaggio che è l'esivo della dignità delle istituzioni. Allora io sono pronto a fare il dibattito con chiunque. Io voglio fare un investimento sul mondo che lavora, almeno quanto Conte lo fa in Sicilia, sul mondo che chiede il reddito di cittadinanza. Io voglio dire a quelli che si alzano la mattina presto che le loro tasse non possono andare in sussidi quando Conte dice noi vi facciamo ristrutturare casa gratis. Un politico non vi dà mai niente gratis. Se vi dice che la casa è gratis sta facendo pagare alle prossime generazioni. Ma io nel merito il confronto lo faccio, non sono mai scappato in vita mia. Quello che è ridicolo è che Giuseppe Conte, so di dire parole pesanti, istiga alla violenza e all'odio verbale. Dal momento in cui lui ha detto venga senza scorta, io ho qui su Instagram, sul mio telefonino, decine di minacce di morte da parte di persone che dicono ci vediamo domani a Palermo. Perché io domani sono a Palermo. E allora ho chiamato il ministro Lamorgese per dire ognuno può avere le idee che vuole. Ma se domani succede qualcosa in piazza a me o ai miei a Palermo, considero responsabile morale e mandante mandante di violenza fisica e verbale il signor Giuseppe Conte. Vedete, il dibattito si fa su tutto. Però tutti noi riceviamo minacce su Twitter. No, Parenzo. Durante il periodo di No Max. Lui e lei non è un ex presidente del Consiglio. Io non ho mai detto agli ex presidenti del Consiglio, con cui ho avuto polemiche con tutti, e altri li hanno avuti. Io non ho mai sentito Berlusconi dire questa frase di Prodi. Non ho mai sentito dire frasi tra Prodi e Berlusconi, per non risalire alla Prima Repubblica, che magari aveva dei toni un pochino più compassati. Quello che voglio dire è che c'è una deriva trampiana di Conte. Evoca la guerra civile. Sa di Capitol Hill, non di Palermo Giardini del Massimo. È una cosa molto grave. Poi parliamo di politica. Quando lei dice io mi occupo di lavoro e Conte fa campagna elettorale sul reddito di cittadinanza, intende dire che sta facendo leva sull'assistenzialismo di quella parte del Paese che campa di rendita e di... Sì, ma questo è del tutto legittimo, ancorché discutibile. Io sono l'opposto di Giuseppe Conte. Però funziona, no? Non lo so se funziona. Perché vedo che sta funzionando. Quindi vuol dire che l'Italia... Guardi, noi non possiamo citare i sondaggi. Io potrei dirle che funziona anche il nostro. È interessante dal punto di vista della comprensione del Paese. Se funziona, vuol dire che c'è una parte di Paese che è più interessato ad avere una forma di assistenza piuttosto che avere un lavoro. Però vedi, su questo punto io trovo che sia legittima la posizione di Conte. Io non la condivido. Non so cosa pensano gli ascoltatori a casa. Se guardiamo i sondaggi fino a quando potevano essere pubblicati vediamo che al nord funziona poco e al sud funziona moltissimo. Specie in Sicilia, Campania e Puglia. Ma questo è legittimo. C'è un posizionamento politico che a me non piace perché punta sull'idea che quell'articolo 1 della Costituzione Repubblica Democratica fondata sul lavoro debba essere cambiato. Repubblica Democratica fondata sul sussidio, sull'assistenzialismo. Ma sa quanti l'hanno fatto nel corso della storia? L'ha fatto Achille Lauro con le scarpe e lui lo fa con la tesserina gialla del reddito. Qualche giorno fa io ho sorriso. Però un conto è dire voto di scambio poi coinvolgiamo subito il direttore Molinari. Sì, ma volentissimo. Però prima di arrivare al voto di scambio al voto clientelare alle minacce all'istigazione c'è un punto precedente caro Parenzo. Il punto precedente è che questo linguaggio di odio dell'avversario la frase stupefacente non è confrontiamoci sul reddito di cittadinanza. Io sono pronto. Chiamatelo Conte. Io domani vado a Palermo. Scegliamo un posto. Il punto fondamentale è che a mio giudizio un presidente del Consiglio ex non può dire... Renzi, sentiamolo perché sta parlando di lei. Un momento. Colleghiamolo. Colleghiamolo. Eccolo. Soprattutto con i percettori di reddito perché sta facendo una campagna una guerra contro i poveri. Ma si può parlare E allora io vorrei invitarlo a parlare con le persone con i percettori di reddito noi sono tantissime. Ho capito, ma scusi ma perché non parlano perché non diamo la replica? Ho potuto mettere un piatto per i propri figli? Sono persone che finalmente hanno potuto comprare un paio d'occhiali da vista che non si potevano permettere. Addirittura qualcuno vi ha parlato di essere riuscito ad acquistare una protesta. perché non possiamo dialogare? E perché anche i P.I. festival non è con noi. Sono delle realtà di vita molto diverse rispetto invece a quella realtà di frodi di inganni che sono... però è chiaro torniamo in studio però è chiaro mi scusi Ranzi mi faccia fare una cosa di 10 secondi poi le do la parola è chiaro che Conte sta facendo campagna elettorale su questo ma è corretto questo perché per uscire dalla povertà devi dare lavoro non sussidio cioè io nel merito penso di avere un'idea diversa su cui sono convinto se vuoi far comprare un paio d'occhiali se vuoi far uscire dalla povertà non dai l'elemosina dello Stato a 500 euro guardi che quando io ho fatto il premier quando sono arrivato il governo Letta aveva lasciato 20 milioni di euro all'anno sulla povertà io sono lasciato la campanella come è noto ai gentiloni c'erano 2 miliardi e 700 milioni allora è evidente che il tema della povertà esista penso per come l'ho studiata io dagli studi del premio Nobel Esther Duflo fino alla concreta quotidianità del Banco Alimentare della Caritas tu sai che per combattere la povertà occorre dare dignità e lavoro non soltanto un reddito ma su questo punto possiamo discutere lei lo chiama siamo in trasmissione siamo due avversari scusi questo passaggio per cui io dico io ho minacciato lui mandante è perché se lui dice vieni senza scorta che frase è vieni senza scorta perché scusi perché se vengo con la scorta cosa cambia senza scorta mi picchi no era forse un brutto modo di dire come dire senti la reazione non è questo il punto non ci sia ragione poi finiamo e parliamo di contenuti questo deve essere chiaro non per me io figuri se figuri se io mi tiro indietro ma si immagina io domani vado a Palermo ho detto al ministro guarda ministro ti segnalo che io domani vado a Palermo ma ci sarei andato ha detto staremo molto attenti perché siamo però può darsi anche che lui vuole sedire vieni senza privilegi può darsi anche che il riferimento alla scorta fosse un riferimento alla casta sentiamo la testa che ha un volato in aereo di stato il triplo di me ma qui ci prendiamo in giro direttore Molinari si parla di casta quando sono fuori dal governo andiamo da Molinari viva Trampiana chiedetelo a Molinari se è come tra con la guerra civile con la guerra civile corrio però di questo e non delle mie proposte sul governo è una folla ho capito verrà la notizia del giorno direttore Molinari direttore Molinari come lo vede questo rush finale di campagna elettorale che indubbiamente in questi ultimi giorni si sta quanto mai accendendo per usare un eufemismo Assolutamente sì ma io credo che visto che siamo a otto giorni la tattica assume un valore importante dal team di Conte trapella la convinzione che i 5 Stelle siano in recupero soprattutto al sud e quindi la deduzione è che gli attacchi diretti a Renzi probabilmente nascono dalla convinzione di Conte che più si attacca a Renzi più al sud si guadagna terreno credo che sia un po' questa la convinzione che trapella dal linguaggio di Conte e quindi il duello diretto con Renzi che in questo momento Renzi sta valorando in realtà potrebbe tatticamente giovare a Conte Guardi giova anche a noi dal punto di vista politico caro direttore perché noi saremo a Milano chiuderemo il 22 a Milano in Darsena saremo a Milano a parlare con i giovani noi stiamo non posso parlare dei sondaggi stiamo crescendo in modo straordinario al nord è come dire se è giusto il ragionamento che fa Molinari e io trovo che abbia un senso molto serio questo è molto vero io voglio parlare alla gente che lavora voglio dire che il terzo polo con Carlo Calenda azione Italia Viva siamo quelli che chiedono a chi crede nel lavoro e non nel sussidio in industria 4.0 e non nel reddito di cittadinanza nel jobs act e non nel bonus zanzariere nel commissario figliuolo e non nei banchi a rotelle quindi è una diversità di mondo a ragione Molinari quello che però sul quale Molinari non dice una parola e mi dolgo di questo e mi dispiace è che il tono che viene utilizzato quando tu dici senza scorta non fa riferimento alla casta perché se la scorta è casta si sappia che conta alla scorta tripla della mia cioè fa riferimento a un'aggressione a una cosa è trampiano il linguaggio amici se uno dice voglio se togliete una legge dello Stato c'è la guerra civile e lo dice un ex premier lo dice uno al bar gli offri una bevuta e gli dici stai calmo bisogna aver rispetto delle istituzioni però scusi lei si ricorda quando Minniti ex ministro dell'interno a un certo punto disse attenzione perché sto nelle periferie ribolle c'è il rischio che accada qualcosa allora lui magari dice attenzione ma non ha mai detto al ministro dell'interno precedente o successivo vieni in piazza e ci sfidiamo in piazza senza scorta ragazzi ma ve ne rendete conto di questo è repellente questo linguaggio su questo siamo stati chiari e ne abbiamo parlato abbastanza voglio un momento chiedere a Maurizio Molinari torniamo al tema sussidio o lavoro è come se Renzi dicesse io vado a Milano e vado a parlare di lavoro perché al nord si parla di lavoro Conte sta al sud e parla di sussidio sono due Italie diverse è così Maurizio Molinari? assolutamente sì che si contendono il tema delle diseguaglianze e questo senso di sconforto di protesta che cresce dal centro medio che spiega perché la Meloni stia crescendo che spiega il recupero di Conte e che pone un interrogativo molto serio ai partiti tradizionali ma io credo anche al terzo polo di Calenda e Renzi su come affrontare il tema delle diseguaglianze in maniera competitiva con le forze populiste forse questo il terreno sul quale potremmo sentire Renzi ad esempio gli esempi che ci vengono da alcuni paesi europei la Germania l'Olanda l'Austria ci dicono che per battere i populisti su questo terreno cioè quello del cavalcare la protesta una delle carte più efficaci è quella del clima perché anche il voto a Meloni è un voto di protesta ma questo è un tema molto interessante la domanda è come si fa a dare una mano alle persone primo punto per me creando lavoro oggi noi abbiamo una situazione nella quale in alcune parti del paese non si trovano lavoratori qualcuno dice si pagano poco ci arrivo tra un attimo all'aumento degli stipendi quanto mai necessario nel momento in cui l'infrazione sta tra l'8 e il 9% ma il primo punto è noi scegliamo un meccanismo in cui paga pantalone cioè lo Stato e dà il sussidio a tutti vi rifaccio far la casa gratis non ti rifà far la casa gratis ti sta facendo pagare il debito alle prossime generazioni o scommettiamo su un modello in cui il posto di lavoro va creato questo è il primo punto secondo punto come pagarlo meglio perché questo tema esiste cioè noi abbiamo un punto quando io ho fatto il premier la prima cosa che ho fatto è stato dare 80 euro in più al ceto medio 10 milioni di persone attenzione Parenzo era soldi in più circa 1000 euro netti al mese direttamente al lavoratore è la stessa cosa secondo me servono di più che oggi va consentita di fare anche alle imprese private mi spiego tu sei un imprenditore privato magari hai avuto un ottimo risultato perché hai avuto un bellissimo anno io ti devo dare la possibilità se te quei soldi li metti in tasca cioè te li prendi per te li metti nei tuoi dividendi io te li devo tassare ma se tu quei soldi li dai ai tuoi lavoratori sotto forma di aumento di stipendio quei soldi lì vanno totalmente slegati da ogni forma di tassazione e di contributo esattamente come gli 80 euro cioè erano 80 euro detti 80 euro fatti se tu oggi dai 80 euro un imprenditore privato li dà in realtà se sono lordi diventano più o meno in busta paga 30 perché c'è contributo di tassi allora questa è la vostra proposta rispetto al populismo è la cosa che dice Molinari che è interessantissima parliamoci chiaro noi abbiamo un mondo che è diviso ed ha una diseguaglianza crescente l'economist qualche giorno fa pubblica divided states of america gli stati divisi d'america in tutto il mondo sta crescendo la diseguaglianza io dico che chi propone un modello culturale basato sui sussidi uno è diseducativo verso l'Italia e la sua storia due dà un messaggio pessimo ai giovani che se ne vanno tre rende le diseguaglianze più diseguali di prima perché se tu prendi 500 euro non hai sconfitto la povertà l'hai mantenuto nella povertà però Renzi lei mi insegna che intanto li hai presi e comunque anche il voto a Meloni è un voto di protesta sì o no? sì è un voto di protesta con un aggravante nel caso della Meloni Giorgia Meloni che io non ho mai accusato di essere fascista mai ha una visione dello Stato sovranista è ugualmente pericolosa di quella populista di Conte Conte dice tranquilli paga lo Stato vi pago io per tutti la Meloni dice una cosa se possibile altrettanto grave l'Italia è un paese che crede nella globalizzazione c'è un paese che ha aziende straordinarie io li sto visitando tante che fanno export al 90% che fai? fai il sovranista? gli alzi gli steccati i confini muri a queste aziende? due hai la moda il design il turismo le città d'arte tutta gente che ha bisogno di avere rapporti con l'estero cioè di globalizzazione cosa fa il sovranista? quando Giorgia Meloni racconta un'Italia per i nostri figli sovranista non fa la patriota è l'Italia che si rinchiude in un confine molto piccolo cioè il protezionismo il protezionismo e il sovranismo sono pericolosi come l'assistenzialismo Molinari introduciamo l'altro elemento perché nella famosa conferenza stampa di cui continueremo a parlare perché è una cluster bomb quella conferenza stampa e ieri a un certo punto Draghi ha risposto con due lettere no a una domanda precisa su un suo futuro ipotetico ruolo e vedi che ha fatto scuola perché adesso tutti rispondono no ho visto il crosetto che ha copiato subito allora la domanda per Molinari è che cos'è quello un epitafio sui desiderata futuri del terzo polo di coinvolgere Mario Draghi ma diciamo che forse può essere interpretato come la richiesta al terzo polo e ad altri attori politici di non fare più riferimento a lui per riservarsi la possibilità se davvero la situazione dovesse essere senza uscita che sia o sarà il Quirinale a chiamarlo in causa come dire lui si muove se lo chiama il Quirinale non se lo chiama una singola o più forza politica forse questo ha voluto intendere lo vogliamo vedere questo passaggio vediamolo insieme tanto dura poco ma si è una dice no vediamolo sarebbe disponibile un secondo mandato a Palazzo Chigi no fantastico posso fare un'altra molto breve a Cingolani no no vedi che è diventato no si però scusate qui siamo con tre signori professionisti perché siete tutti giornalisti di altissimo livello aiuto quando uno introduce così poi dopo arriva la stile ma facciamo una riflessione seria Varenzo lo dico a lei lo dico a te lo dico a Moria scusate ma cos'altro poteva rispondere sto poveri uomo gli ha detto una volta lei è disponibile ad andare a Quirinale io sono un nonno al servizio delle istituzioni è venuto giù il mondo è evidente che alla domanda di una giornalista ancorché bravissima autorevole lui risponde no la vera riflessione l'ha fatta Molinari prima la domanda se mai ci saranno le condizioni politiche cioè se la Meloni non avrà i voti per governare che naturalmente scopriremo tra una settimana non è che gliela fa Matteo Concita David o Maurizio gliela fa un signore che si chiama Sergio se ci sono le condizioni allora il punto fondamentale io col 2% col 2 col 2% ho lavorato per mandare a Casa Conte e dopo quello che ha detto ne sono particolarmente orgoglioso è per portare i draghi avevo il 2% quello che diciamo con Carlo Calenda è se noi riusciamo a prendere una percentuale che stia intorno al 10% e senza fare alcun riferimento ai sondaggi siamo certi di potercela fare come minimo io penso che sia nei fatti la possibilità di non avere una maggioranza guida Meloni cioè la partita ormai è duplice però scusa questa cosa è interessante perché apre uno scenario quindi lei dice Draghi a una giornalista dice per forza di no perché la volta che ha detto è venuto giù il mondo quindi dice di no questo significa che però forse se glielo chiedesse Mattarella e non una giornalista questo lei pensa forse senza fare il portavoce del direttore di Repubblica che sia cosa analoga a quella che diceva qualche istante fa anche il direttore Molinari però per essere chiari qui bisogna fare un passo indietro però non era questa la domanda aspetti perché abbiamo appena fatto vedere uno strappo di giornali in cui Calenda dice se vince Meloni dura sei mesi ecco chiunque vinca non durerà più di sei mesi da noi ha detto se vince Meloni dura sei mesi massimo sei mesi lei nei giorni successivi ha detto io faccio cadere un governo ogni due anni allora diventa un algoritmo cioè diventa una formula matematica quella dura sei mesi lei ne fa cadere ogni due anni io ho fatto una battuta perché ho detto ma l'ho fatto una battuta in un sms si sommano i sei mesi i mesi si tolgono sono 18 quindi io sono no no aspetta andiamo con oggi qui c'è un sistema in questo paese che a me non piace che è un sistema che dà ai parlamentari il compito di decidere sulla vita del governo io preferivo un sistema in cui i cittadini possono scegliere Renzi contro Parenzo la gente va vota ballottaggio chi vince governa per 5 anni come è noto ci ho perso la mia poltrona e il mio governo su quell'idea di ballottaggio spero questa è una mia valutazione che nella nuova legislatura da qui al 2027 si arrivi al sistema che tutti gli italiani vogliono che è quello del sindaco d'Italia perché il sindaco funziona quindi i giochini di Renzi di Meloni di Letta di Berlusconi di Conte di Calenda a zero però l'ha detto ho fatto cadere un governo ogni due anni non è che l'ho detto io è la verità dei fatti perché quando Salvini è arrivato in mutande col mojito in costume a dire io ragazzi che hanno fatto cadere ma la domanda è eventualmente intende continuare a farlo io penso questo se ci sarà Giorgia Meloni presidente del consiglio così lo diciamo chiaro noi saremo all'opposizione così come noi non saremo col PD il PD ha scelto una strada per me suicida di allearsi con la sinistra radicale che era contro Draghi di inseguire il Movimento 5 Stelle ormai il PD sul reddito di cittadinanza su tutto insegue il Movimento 5 Stelle mi faccia dire con una battuta il PD ormai è il generico del Movimento 5 Stelle quindi anche dopo addirittura è il generico del Movimento 5 Stelle anche dopo il voto non ci sarà nessuna possibilità di dialogo no e allora a questo punto che cosa succede se al governo noi che cosa perché ci candidiamo in Parlamento perché siamo quelli che sul MES sanitario diciamo 37 miliardi per la sanità non ne parla nessuno sulle infrastrutture noi avevamo ragione sulle frivelle sul TAP sul termovalorizzatore sul rigassificatore di Piombino questo lo dice anche il PD però su questi temi la pensate è uguale il rigassificatore di Piombino il PD è contrario il PD di Piombino il PD nazionale è incerto no scusi Parenzo mi scusi il PD di Piombino come il sindaco di Fratelli d'Italia dopodiché ha detto che si deve fare questo solo per precisi però aspettate prima scusate un attimo fatemi finire la domanda che mi ha fatto prima con Città se no Davide non arriviamo nel suo parco per carità lei mi fa la domanda e dice a questo punto che cosa fate voi noi stiamo all'opposizione se il governo Meloni va avanti ammesso che si crei faremo l'opposizione interessante ammesso che si crei fermiamoci un momento su questo dopodiché troviamo il voto per quello che siamo noi perché non c'è un solo cristiano che possa venire qui e fare un confronto con noi perché hanno paura le persone da casa e un po' anche noi vorremmo capire questa cosa cioè ammesso che si crei che significa qual è la possibilità se c'è che il governo Meloni non si crei che si indeboliscano Forza Italia e Lega che non abbia numero dipende dagli elettori siete di Forza Italia quindi questo mi fa fare c'è lei che ci sta ascoltando da casa è di Forza Italia ha sempre votato per un partito conservatore europeista come fa a votare la fiamma oppure viceversa lei è uno del PD che ha sempre votato PD perché vogliono governare le rispondo io che non sono di Forza Italia perché vogliono governare cioè se io penso che governerò con Meloni e lei mi sta dicendo noi a Meloni non gli diamo il nostro appoggio se io voglio un governo di centrodestra allora piuttosto voto Meloni come fanno molti elettori della Lega Renzi che votano Meloni al posto di Salvini la mia scommessa politica è un'altra che tanta gente che è rimasta delusa di quando Berlusconi e Salvini hanno fatto cadere Draghi tanta gente perché levare Draghi per mettere Meloni è un po' discutibile a mio avviso tanta di questa gente voterà per noi perché sui contenuti sull'economia sull'ambiente non ideologico sul futuro dell'innovazione su Industria 4.0 sul rifiuto della cultura assistenzialista per andare verso la cultura del lavoro però voi non governerete né con la Meloni né con Letta scusi ci arrivo voglio fare lo stesso discorso a sinistra perché se no sembra sia solo a destra tanta gente che stava con il PD non rivota il PD perché questo PD che insegue i 5 Stelle che candida Di Maio e Fratoianni che dice no al lavoro sia reddito di cittadinanza ma questo è molto chiaro a questo punto con chi governa e dunque aspetti break e poi torna rimane con noi a questo punto con chi si governa Molinari con chi si governa dopo la pubblicità manda anche la pubblicità ormai fatto fantastico andiamo la pubblicità l'assassino dopo la pubblicità andiamo 22.01 in diretta la replica di Renzi ricapitolando la risposta che tutti si aspettano se vince Meloni noi all'opposizione se non ci sono i numeri per la vittoria di Giorgia Meloni è chiaro che ci deve essere un governo istituzionale io come sapete ho la mia tesi e preferenza ritengo che a quel punto Draghi non potrebbe che dire sì ma in entrambi i casi si pone un tema di cambiare le regole perché? perché non si può continuare con gli inciuci e i governi che cadono il giorno dopo e lo dico io e allora qual è lo scenario nostro del terzo polo per rispondere alla domanda che avete fatto prima 2022 cercare di stare il più vicino possibile al 10% ed essere decisivi 2024 attenzione che questo è il punto chiave alle europee portare in Italia la famiglia di Renew Europe che è Macron perché? perché noi abbiamo una casa in Europa Meloni e Salvini hanno Orban e Le Pen e Conte e tutto il resto del PD che guarda Conte vede Melanchon e la sinistra radicale non ha altri riferimenti la sinistra radicale scusi però a un certo punto PD radicale e 5 Stelle faranno l'accordo o no? io penso di sì quindi scusi si sta dicendo che guarda l'Europa conclusione se ci sarà a quel punto un sistema come io auspico di ballottaggio cercheremo di fare ciò che ha fatto Macron spolpare ci deve essere la riforma esattamente lavoreremo per questo abbiamo già detto che noi siamo pronti a partecipare ai lavori di un'eventuale commissione bicamerale costituzionale per superare il bicameralismo e per fare il ballottaggio e a quel punto l'obiettivo è lo stesso prendere da sinistra e da destra e fare un grande centro Macroniano e vincere nel 27 questo governo istituzionale se Draghi dicesse il vero cioè se non fosse davvero disponibile può darsi no? diciamo esiste la possibilità poniamo che Draghi dica la verità non ci crede nemmeno lei se Draghi dice la verità e non è disponibile mettiamo che Meloni per uno sbottamento degli alleati non ce la faccia a formare il governo non credo che lei pensi a un'alleanza Letta-Meloni no? il famoso governo rosso-nero di Meloni se c'è il governo istituzionale ma lo vedremo soltanto dopo vedrà che alla fine saranno costretti ciascuno a fare i conti con se stesso non sono in grado guardi le previsioni del PD sono di quel partito che diceva o Conte o Morte mentre io portavo Draghi allora io vorrei evitare questo governo istituzionale chi lo fa allora il tema è chi ci segue da casa deve sapere che i governi si fanno in Parlamento e quindi il voto utile non è supposito lei ce l'ha in mente però no no io ce l'ho in mente Draghi gliel'ho già detto per cui io ho in mente te il punto fondamentale la questione è molto semplice finché c'è questo sistema istituzionale voi non eleggete un presidente del consiglio diciamolo a casa eleggete dei parlamentari io penso che parlamentari che sono per il lavoro per le infrastrutture che non dicono sia l'assistenzialismo che non sparano balle sull'Europa che stanno con Macron e non con Orban siano presenti in quantità industriale solo nel terzo mondo Molinari allora così facciamo un passo in avanti ma rimaniamo a questo tema che è un tema enorme che discuteremo secondo te direttore questa campagna elettorale ha reso molto più nette le identità dei partiti cioè quando Renzi a un certo punto ci dice una cosa che aveva già detto in realtà voglio fare al PD quello che Macron fece ai socialisti francesi e alla destra lei l'aveva già detto questo quando se ne è uscito dal PD lei l'aveva già detto ma questa campagna elettorale qui sta veramente creando delle identità così definite e forti nei partiti secondo te assolutamente sì io credo che questa sia la chiave anche al dopo voto è evidente ad esempio che sulle sanzioni alla Russia la differenza fra Salvini e gli altri due alleati del centro-destra rende molto difficile immaginare che possono governare assieme così come la posizione della Meloni su Orban è molto diversa da quella di Berlusconi di Forza Italia cioè sui temi identitari di politica estera e di sicurezza cruciali per l'interesse nazionale il centro-destra ha posizioni che distinguono i singoli partiti e quindi è chiaro io credo che all'indomani del voto la composizione del governo non potrà non partire dai singoli partiti e dal loro risultato più che dal risultato delle coalizioni elettorali interessante allora vogliamo voltare pagine e andare a vedere però quello che succede nel frattempo nel paese andiamo a vedere in questi giorni l'ennesima emergenza ambientale sono sempre le lacrime di coccodrillo sono sempre troppo tardi quando si vanno a contare i morti prima la marmolata oggi le marche vediamo cosa è successo 11 morti e 2 dispersi però la luce non c'era solo con i lampi vedevamo perché era tutto di notte le porte le sbrollate tutte tutta la forza le piante tutta con la legna e proprio lì ha fermato proprio tutto lì mi fiolo erano stacchisi mi ha detto andate via andate via salvatevi la vita il resto vedremo e l'ho venuto e l'ho venuto a dar cominciare la capo abbiamo pagato un contributo di persone troppo alta questo qui è il fiume Nevola di solito è di queste dimensioni ma basta superare il ponte per vedere cosa è stata questa inondazione questo è diventato tutto il letto del fiume un letto normalmente di due metri di larghezza tre metri di larghezza quindi alla sera era 60 metri di larghezza 60 metri di larghezza vedi dove è arrivata all'acqua al livello delle finestre dal piano sopra quella è la casa dove c'è ancora una persona dispersa la stanno cercando senza sosta i vigili del fuoco una donna di 56 anni ma anche un bambino di 8 le vittime accertate sono 11 la violenza dell'acqua ha distrutto tutto quella è la preoccupazione anche no presumo dentro questo mulino entriamo camminando letteralmente sopra i pacchi di farina che erano pronti per essere venduti tra merce danneggiata macchinari siamo intorno a un milione e mezzo di euro ma no qui in cima a più la porta mi fai ma tutto meno quindi già allora Renzi la questione delle marche l'italia dell'eterna dell'eterna emergenza 11 morti per ora i due dispersi e ricordiamo la raccolta fondi che oggi di Gila 7 col Corriere della Sera da oggi è attiva prego io la trovo una cosa immorale perché perché non per merito del mio governo ma per merito di un signore che è un grande italiano che si chiama Renzo Piano sette anni fa è nata una struttura chiamata chiamata casa Italia e poi Italia Sicura cosa voleva fare voleva cercare di prevenire queste vicende qui partendo da un caso devastante che era quello del bisagno a Genova pensate che nel 2011 e nel 2014 nello stesso punto il bisagno ha trascimato due volte e ha creato morti in entrambe le circostanze c'è un sindaco che è stato lungamente in carcere per quello indagato diciamo è stato condannato il punto fondamentale è che allora noi abbiamo messo 500 milioni per il bisagno oggi il bisagno è fortunatamente fuori pericolo ancora sono da finire i lavori finiranno tra un'anno e mezzo abbiamo fatto un'unità di missione sa quanti soldi abbiamo tirato fuori 8 miliardi e 400 milioni e abbiamo detto non li gestisco io che sono un presidente del consiglio che tra un anno due anni tre anni scado non li gestisce quello dopo li lasciamo a questo progetto a questa casa di missione a questa unità di missione Casa Italia sapete chi è chi Renzo Piano ha voluto per fare il capo di questa struttura non un amico di un partito ha chiamato un signore che si chiama Giovanni Azzone che era l'ex allora rettore del Politec perché vi racconto questa cosa quando vedo le immagini delle marche perché ci sono alcune zone dove queste cose non accadono più nella mia Toscana 130 milioni sulle casse d'espansione a Figline la diga di Levane e oggi l'Arno è messo in sicurezza dovesse arrivare un alluvione stile 1966 anziché far 10 metri d'acqua farebbe 10 cm d'acqua però ci sono alcune zone in cui per colpa della politica dei ritardi della pubblica amministrazione paradossalmente proprio del governo Conte che ha cancellato l'unità di missione che è voluta da Renzo Piano i soldi per la cassa di espansione del MISA cioè la cassa di espansione di questo torrentaccio sopra Senigallia li avevamo liberati subito 45 milioni e 100 milioni su 8 miliardi hanno chiuso l'unità di missione il ministro che ha chiuso l'unità di missione non è che l'hanno fatto perché poi pensavano che si sarebbe sbagliato ma chi li ha ribloccati e abbiamo detto siccome i soldi li stanziano tutti ma poi non li spendono perché c'è da fare progettazione gare e esecuzione abbiamo detto diamo una struttura che faccia la progettazione e che velocizzi questa struttura è stata chiusa nel giugno del 2018 dal ministro Costa ministro dell'ambiente del governo giallo verde la chiusura dell'unità di missione ha prodotto un ritardo che ha portato il progetto ad essere approvato più in là la gara ad essere fatta più in là e se non vado errato la gara è partita soltanto nel 2021 non sarà solo per questo glielo dico perché voglio dire è una ricostruzione scusi scusi allora lei mi porti chiunque a smentire i fatti e le dico un'altra cosa io forse sarò rieletto senatore se sono rieletto senatore firmo una proposta di legge la prima appena rieletto e dice semplicemente questo è istituita di nuovo l'unità di missione voluta da Renzo Piano mettano il nome che vogliono è cancellata dal governo capiremo la ragione perché l'hanno chiusa tutti devono dire sì perché è folle che si dica di no a lui torniamo a Palermo dove lei sta per andare nessuno ne parla capito perché poi mi fanno le minacce mi fanno le minacce ma nessuno parla delle questioni sappino e ringraziamo il direttore Molinari per essere stato con noi Luca Sappino Luca Sappino grazie Molinari grazie direttore ti affidiamo la chiusura di questa parte perché c'è una replica durissima di Conte poco fa che non sta seguendo evidentemente la trasmissione nostra sì ma non ha mai il coraggio di fare un confronto con questo capito cioè invece che minacciare senza scorta vieni in studio e parliamo a proposito di minacce mi ha salutato vai Sappino a proposito di minacce si è arrivata una dichiarazione di Giuseppe Conte dice Renzi la smetta con le furbizie non scambi per invito alla violenza l'appello che gli rinnovo si confronti senza filtri con il mondo reale e ascolti la voce di chi non ha niente l'unica vera minaccia è quella che Renzi rivolge ogni giorno verso chi è in gravi difficoltà economiche e non arriva neppure a metà del mese questa diciamo è la precisazione di Giuseppe Conte quindi insomma è come se facci fosse il tema del privilegio economico vede che alla fine l'hai andato ma vi sembra normale che due ex presidenti del consiglio non possano fare un dialogo civile nella settimana delle elezioni moderati da dei giornalisti moderati da chi vuole Conte scelga Conte i giornalisti vuol mettere Casarino faccia moderare Casarino se vuole ma il punto fondamentale è vi sembra normale che io sia costretto e ringrazio Sappino e ringrazio tutti i vostri collaboratori bravissimi a dover rispondere per come dire attraverso un giornalista e non posso parlare con uno che tre ore fa mi ha detto vieni senza scorte e vediamo come va a finire questo è un invito diciamo che questo è un invito a un confronto le faccio una domanda molto preciosa perché Peter Gomez ne ha parlato in apertura di puntata ed è giusto che lei abbia la possibilità di replica Peter Gomez ha detto Renzi oggi ha due problemi i suoi due problemi del giorno sono uno il viaggio in jet privato da Lugano che sembra riecheggiare nelle parole di Conte il privilegio la povera gente quelli che non hanno nulla quelli che hanno tanto intanto mi risponda su questo poi le dico il secondo ma di che cosa stiamo parlando del fatto che vengono utilizzati gli aerei privati perché c'è la questione ambientale che la gente dice che gli aerei privati creano CO2 amici cari ma avete un'idea di cosa serve per rimettere a posto l'ambiente in questo paese servono le trivelle con il gas serve eliminare il blocco delle sovrintendenze alle rinnovabili serve dare il via libera alle infrastrutture come il TAP serve la nave rigassificatore servono le scelte strategiche compreso il nucleare di nuova generazione l'emissione che arriva da un aereo privato è minima ma se possiamo andare su questo terreno così banalmente populista le dico che le emissioni fatte dall'aereo di Giuseppe Conte e di Luigi Di Maio in questi anni perché hanno parlato di noi andremo con i voli di linea e sono andati sempre con i voli privati come naturalmente è populista ma fra i suoi elettori non mi venite a dire queste cose di fronte al fatto che c'è un problema ambientale enorme venite a raccontare la questione del volo privato è una questione perché fra i suoi elettori non prendo il bus elettrico io tra i suoi elettori ci sono sensibili all'ambiente lei ha appena fatto riferimento al disesto idrogeologico e alla cura del territorio tra i suoi elettori ci saranno anche alcuni elettori che hanno a cuore diciamo le emissioni la tutela dell'ambiente ma certo le emissioni ma tutela delle emissioni la tutela dell'ambiente non la fai vietando i jet privati o vietando le macchine o vietando le automobili di lusso vietando alcuni tipi di macchine sì a me ricorda quando Monti questa polemica contro i jet privati che non viene fatta su di me viene fatta in generale perché una forza politica dice aboliamo i jet privati allora a me ricorda quando il presidente Mario Monti decise di bloccare o meglio di tassare in modo straordinario le grandi realtà che facevano i jet vi ricordate era il 2011 le navi di lusso dicendo i ricchi anche i ricchi piangano che è la stessa logica di Mario abolito la povertà fra due anni vuole abolire la ricchezza allora quando è accaduto quello cosa è successo gli yacht sono stati fatti in altri paesi e sapete chi ha pagato il conto di sta roba qua i dipendenti del settore cantieristico di Via Reggio che sono andati in cassa integrazione non sono stati licenziati va bene allora non facciamo i populisti dopo di che Enrico Letta prende il bus elettrico e rimane a piedi ma almeno fa lo slogan su Twitter io dico io dico è evidente che bisogna fare una grande scommessa per la gestione dell'ambiente non si fa con i voli privati però prima di passare Renzi a Massimo Popolizio possiamo chiudegliela così Liberté Galité e Gert Privé a questo punto per Renzi però io volevo chiedere la gentile di strumenti che vengono utilizzati da tutti tutti io volevo oggi era tutto il giorno che volevo chiederle ma quanto le dispiace che alcuni leader politici non prendano soldi dai leader stranieri perché così le rovinano il mercato è tutto il giorno che le volevo fare questa domanda io trovo affascinante che a fronte di una posizione politica come la nostra che sul mess sanitario sulle infrastrutture sul neuro mi faccia finire mi hai fatto la domanda anche simpatica mi faccia finire lei mi deve andare lei mi deve andare la risposta lei mi deve dare io arrivo la risposta quello che trovo affascinante quando io vengo in televisione in alcune circostanze è che a fronte di argomenti straordinariamente importanti su cui nessuno è in grado di dire che noi stiamo sbagliando cioè sulle questioni infrastrutturali mi dica chi ha detto che noi stavamo sbagliando sulle trivelle o sul TAP o sulle questioni delle rinnovabili bloccate ad esempio dai 5 Stelle in Lazio sulle questioni della sanità sulle questioni della cultura sulle questioni della politica estera io vorrei capire perché Conte ha fatto venire i soldati russi a fronte di tutto questo l'unica questione è si va sempre quando non c'è più argomenti sull'argomento a piacere in Italia è permesso che gli ex presidente del consiglio facciano delle conferenze all'estero retribuite è permesso se domani sarà vietato io non le farò più nel frattempo che è permesso ci sarebbe da domandarsi perché a me mi chiamano Conte no va bene ma quindi chi lo fa gratis diciamo non lo sbaglia no no Conte non lo fa perché evidentemente non lo dice Salvini Salvini gli disse io non divento di quel mondo facendo le conferenze abbiamo chiuso per forza è un tigiano si rispondo alla regia che è disperata abbiamo chiuso però io non posso mandarla via senza chiederle una cosa di 10 secondi su un tema che davvero mi sta molto a cuore e che è molto delicato c'è stata un'altra polemica oggi che riguarda un senatore del suo partito che è stato accusato di molestie da una donna di cui non si conosce Ricchetti il nome l'hanno fatto Calenda ha risposto in maniera molto sbrigativa c'è una presunzione di innocenza diciamo che riguarda evidentemente entrambi però io vorrei sapere su questo la sua opinione la molestia sessuale è un reato vergognoso e da punire in tutte le sedi in questa vicenda il senatore Matteo Ricchetti si è rivolto un anno fa dai magistrati a denunciarlo la vittima o presunta vittima proprio per la presunzione di innocenza non ha risposto sul punto allora se la presunta vittima ha le prove di quello che sostiene nelle sedi giudiziali giornalistiche è giusto che le tiri fuori allora in questo momento siamo di fronte a una duplice presunzione di innocenza lei dice ho capito bene alla fine sui contenuti noi non si riesce a parlare sui contenuti perché si arriva sui jet privati sulle conferenze all'estero e sulle presunte violenze allora vediamo di essere chiari vediamo di essere chiari se c'è una violenza sessuale è una cosa immorale e vergognosa ma qui siamo in presenza di una vittima o presunta vittima che non ha denunciato questo succede a volte lo sa lei però siccome ha denunciato sui giornali e quell'altro è andato e ha fatto una denuncia davanti al tribunale perché una cosa è dire io ho subito violenza non riesco a denunciare ferma se lei prende mi viene a dire Renzi nel camerino mi ha messo le mani addosso e io la porto in tribunale lei ha la libertà di difendersi ma non di diffamarmi allora io non so chi ha ragione conoscendo Ricchetti non mi sembra possibile ma siccome Ricchetti ha denunciato tra una settimana tre giorni un mese si saprà la verità possiamo essere giudicati dalle posizioni che esprimiamo perché sulla violenza sessuale noi abbiamo fatto delle leggi delle regole grazie credo nella giustizia e non nel giustizialismo grazie Matteo Renzi per essere stato con noi ora siccome nell'introdurre l'ospite che arriverà tra poco noi avremmo voluto ospitare qui Antonio Scurati autore degli ultimi gioi dell'Europa trattenuto in mezzo a un traffico bestiale non è con noi però invece è riuscito ad arrivare in studio chi? Massimo Popolizio Massimo Popolizio che è uno dei due mussolini di uno spettacolo formidabile M che torna per tre settimane dal 28 di questo mese dal 28 di settembre al piccolo di Milano dopo essere già stato triunfalmente al piccolo al teatro argentina e aver appena vinto le maschere del teatro italiano come miglior spettacolo dell'anno i due mussolini sono Popolizio e Tommaso Ragno uno spettacolo francamente imperdibile andate a teatro Massimo Popolizio ah che soddisfazione beh già vincere una sorta di orgasmo ma vincere in casa dei rivali francesi è meglio che fottere puro piacere gli azzurri di Vittorio Pozzo che all'esordio a Marsiglia vengono contestati dal pubblico francese per il saluto romano quegli stessi azzurri nei quarti di finale schiantano per 3 a 1 proprio i padroni di casa indossando la divisa nera voluta dal regime puro piacere il campionato del mondo di calcio del giugno del 1938 si era annunciato sin dal principio come una versione incruenta e in calzoncini corti della guerra europea campionato vinto per la seconda volta consecutiva dall'Italia fascista non si sarebbe potuto immaginare niente di meglio per umiliare i francesi dopo che lui Mussolini con il suo discorso di Genova aveva scatenato in tutto il paese una possente ondata di gallofobia e adesso si compiace il duce del fascismo si compiace e si esalta ma perché mai? ora dovrebbe dare ascolto a chi gli consiglia moderazioni a chi bisbiglia che dopo la visita di Hitler e con quelle tirate antifrancisti si scivola pericolosamente verso l'abbraccio letale con i nazisti ma tutto il contrario per Dio bisogna invece accelerare radicalizzare totalizzare bisogna liberare l'Italia dall'ultima schiavitù quella francese perché? l'Italia dovrebbe accompentarsi delle briciole lasciatele da inglesi e francesi che neanche tre anni prima ai tempi della conquista dell'Etiopia li hanno punita con sanzioni durissime e soprattutto perché lui Benito Mussolini per far piacere ai francesi dovrebbe rinunciare ad essere il capo di uno stato le cui forme autoritarie assicurano al suo popolo unità pace e lavoro perché dovrebbe rinunciare ad essere se stesso ma al diavolo i francesi e la sua euforia aumenta quando gli danno notizia che i raccolti si prospettano buoni in questi giorni sotto questo sole che va particolarmente a genio a noi uomini della zolla e della grande estate gli sentono dire ai contadini di Aprilia dove si è recato per un filmato di propaganda mentre si mostra a petto nudo agli operatori dell'istituto luce intento a trebbiare il grano camerata macchinista accendi il motore camerati contadini la trebbiatura comincia l'altra linea d'attacco a cui Benito Mussolini applica la propria ritrovata baldanza nelle fiamme dell'estate del 1938 è la questione raziale il 14 di luglio redige di persona parte del comunicato con cui un gruppo di accademici manovrati da lui e riuniti attorno ad una nuova rivista intitolata la difesa della razza punta a trasformare ufficialmente l'Italia in una nazione razzista nei giorni successivi si dedica a stendere un articolo che apparirà anonimo nel quale il Mussolini del 1938 smentisce le dichiarazioni antirazziste rilasciate dal Mussolini del 1932 infine annuncia ufficialmente la discriminazione degli ebrei d'Italia con l'informazione diplomatica numero 18 sappia il mondo che sull'amicizia con Hitler come sulla questione della razza l'uomo della grande estate tirerà diritto camerata macchinista accendi i motori che la trebbiatura abbia inizio Grazie Massimo Popolizio protagonista insieme a Tommaso Ragno di M di nuovo dal 28 di settembre al Piccolo Teatro di Milano per tre settimane del libro un terzo della trilogia di Antonio Scurati Gli ultimi giorni dell'Europa lo spettacolo è tratto dal libro precedente questo è il successivo ed è appena uscito parleremo credo dopo le elezioni a questo punto Scurati lo invitiamo dal 38 al 40 va questo libro lo dobbiamo assolutamente parlare con lui perché è veramente un meraviglioso un meraviglioso racconto degli ultimi giorni dell'Europa ancora grazie a Massimo Popolizio per questo regalo e noi ci vediamo domani alle 20 e 30 con Enrico Letta con Enrico Letta ciao a domani a domani